Non ho un discorso di chi ti... Ragazzi, allora, dottore, se fossimo stati al raduno dei donatori potevamo dire vi ringrazio per essere venuti ma non mi pare Sì, l'hanno capito Ma siccome siamo al raduno dei cardiologi con tutto cuore Grazie a tutti, grazie a me La scelta questa sera è stata abbastanza azercata Io vi ringrazio di cuore da tanti anni che non facciamo una serata così nel canti oggi Grazie a tutti